Tanto avessi promesso che avrei fatto il video dei libri in montagna, quello ve lo giro quando sono in montagna mentre oggi ho deciso di farvi il video dei books perché ho tipo mille mila libri di cui parlarvi e questo sarà un video anche molto lungo, per cui ammatevi di santa pazienza ma come sempre ve li metto tipo tutti a lato così potete scegliervi quali ascoltare, potete guardarvi il video un pezzo per volta e non dovete servirvi me che vi parlo, il loop per 40 minuti potrebbe essere un po' pesantino allora, non so bene da quale libri iniziare perché sono tantissimi ma facciamo che iniziamo da quello che mi è piaciuto un pochino di meno anche perché così dopo lo spedisco perché me l'hanno chiesto su Bookmock e almeno glielo posso mandare ed è questo, la scatola forma di quale di Joe Hill questo libro io l'ho pagato 3 euro perché l'avevo trovato su un mercatino e lo volevo leggere perché Joe Hill è il figlio di Stephen King ora, voi sapete, questa cosa l'avevo ripetuta almeno 5500 volte che io ho un rapporto un po' confittale con Stephen King cioè a volte mi piace molto, a volte mi piace proprio zero, a volte mi sta sulle balle insomma, c'è questo rapporto un po' strano tra noi due questo libro ho deciso, dai lo leggo perché Joe Hill ha parlato bene di Kristen Peake cioè è un motivo puramente proprio veniale ma poi boh mi incuriosiva un po' la trama ho detto dai, cioè Stephen King l'ho pagato 3 euro ho detto tentiamo, no? in realtà io sono stata scema perché non ho chiesto a mia sorella la grande esperta di Stephen King e di romanzi horror non è che ho pensato magari lei l'ha letto, magari lei ce l'ha l'idea in sede del romanzo non era neanche male cioè il fatto che ci sia questa ex rock star appassionata di occulto che cerca di accapparrarsi le cose più assurde, no? cioè i cimeli più assurde legati a stregoneria o proprio al senso del macabre in generale ad un certo punto, cioè lui trova questo annuncio cioè lui il suo socio, il suo segretario trova questo annuncio che vendono un fantasma online, no? e allora lui decide di accapparrarsi il vestito appunto che apparteneva a questo uomo morto perché quanto pare il vestito è intestato e appunto dopo si manifesta il fantasma e in sé l'idea era anche carina anche perché dopo chiaramente c'è dietro un motivo cioè lui in un certo punto questo fantasma lo angoscia talmente tanto decide di ridarlo via e dopo si scopre il perché proprio ha cercato di vendere lui soltanto a lui, no? il fatto è che tutti questi, bam, colpi di scena e soprattutto questo qui che potenzialmente era il più grosso viene svelato per meno a pagina 50 cioè su 380 pagine di libro per cui il fatto, cioè, più grave di questo romanzo è che sì, è anche scritto abbastanza bene la storia è sicuramente interessante è che il colpo di scena più grosso cioè è proprio bruciato all'inizio e voi pensate, vabbè, ce ne saranno sicuramente degli altri sì, ce n'è un altro che avviene molto più avanti nel romanzo quasi alla fine praticamente però a quel punto lì per me siete talmente annoiati o almeno io ero talmente annoiata che ho detto, ah, vabbè, ok c'è anche questa di cosa che era facilmente o abbastanza intuibile ad un certo punto del romanzo e se non era intuibile boh, per me non la percepite come una cosa così bomba forse proprio perché non era un pochino annunciata cioè non vi ha messo così tanto interesse l'autore da dirvi no, non ci posso credere, porella questa che le è successa quest'altra cosa, no? perché chiaramente c'è anche una storia di donne dietro e via dicendo ma non vi sto a raccontare in sé appunto essendo che l'idea era carina io avrei dato spazio più a un romanzo più che a un romanzo ad un racconto breve con questa trama perché un racconto breve ci stava un romanzo di 380 pagine con una trama così scarna no, anche perché è vero che la rock star il protagonista ha il gusto del macabro ma in realtà il romanzo non ha un gran gusto del macabro perché non è che tu dici succedono una sfizza di cose talmente cattive e malvagie a questo protagonista che voi proprio sentite la pena per lui cioè se all'inizio magari vi sta un po' sulle balle per determinati motivi però dopo ne succedono talmente tante così brutte che voi dite vabbè però poverino anche lui no, perché alla fine non ne succedono mai di veramente bomba cioè non so se voi avete mai letto i romanzi più cattivi di Stephen King tipo L'occhio del male forse era o anche Cimitero vivente che erano proprio cioè era lì era un inseguimento alla cosa peggiore che poteva succedere ai personaggi buoni del romanzo invece qui sì ok è successa questa maledizione c'è questo fantasma che lo tormenta però non sentite mai il pericolo che incombe o dite oh mio dio adesso chissà che cosa succede cioè io quando leggo un romanzo horror per quanto non sia una gran fanatica del romanzo horror devo stare in piena per i protagonisti o perlomeno devo pensare a mio dio ma ancora ne è successo un'altra ma poverino ma datemi un attimo di respiro invece leggerlo con indifferenza nei confronti del protagonista da dire ah vabbè allora ti è successa anche questa non lo so non me lo fa sentire tale no cioè il mettere giù un libro perché dire mi sta angosciando troppo non è tipo questo caso o no adesso basta mi sta avendo l'ansia perché guarda ogni 10 pagine succede qualcosa oh mio dio c'è il pericolo proprio lo senti che incalza lo senti che questi ci hanno il fiato sul collo che devono correre scappare perché c'è appunto questa malvagità che hanno addosso è questo per me un romanzo horror no o comunque cercare di scoprire qual è il mistero e il fatto appunto che ve lo dicano subito basta vi brucia per me questo romanzo tutte le carte in partenza e durante il corso appunto del romanzo non c'è nulla che vi viene che comunque vi tiene attaccate le pagine sulla pagina di facebook quello di voi mi ha detto no io volevo leggere a me interessava ma hanno parlato bene e infatti io sono contesa di capire chi di voi l'ha letto e ne pensa bene e mi faccia sapere perché ne pensa bene insomma perché vi è piaciuto così tanto questo libro il prossimo a questo invece mi è piaciuto molto ed è Nei luoghi oscuri di Gillian Flynn Gillian Flynn è l'autrice di L'amore bugiardo e anche Sulla pelle di cui vi avevo già parlato di tutte e due in non so quale altro video che eventualmente vi metto qua sotto il romanzo mi è piaciuto tantissimo il mio preferito tra quelli che ha scritto Gillian Flynn per me è L'amore bugiardo questo poi c'è e poi Sulla pelle Sulla pelle è carino però io non mi sono più informata poi mi dà l'idea che sia il primo romanzo che ha scritto forse perché è un po' più scarno rispetto a questi altri due di trama invece questo veramente vi incuriosisce tantissimo e vi proprio vi acchiappano anche perché questo è un è sì un giallo però un giallo un po' particolare succede che la protagonista che aveva accusato il fratello dell'omicidio di sua madre e i suoi fratellini o le sue sorelline ad un certo punto viene avvicinata a questo gruppo che gli piace risolvere i misteri un po' irrisolti tra virgolette anche se il fratello di lei comunque è la protagonista in galera che le dice guarda per me non è stato tuo fratello per me i polizioti ti hanno messo in bocca delle cose che tu non pensavi veramente che non hai visto davvero perché comunque eri piccola eri sconvolta per cui questi cercano di risolvere il crimine vero è di trovare il vero colpevole e voi leggete il romanzo ed è un po' flashback un po' ai tempi presenti certo la protagonista non è una di quelle proprio con cui riuscite a trovare subito un'affinità perché non ha nulla di particolarmente simpatico o da dire guarda mi spiace per te e per la tua famiglia per tutto quello che ti è successo paradossalmente forse riuscite a trovare più punti di contatto col fratello nelle poche scene che hanno nonostante in teoria il fratello è appunto l'assassino ma voi adesso ovviamente voi partite in quarta dicendo ah ok il fratello a questo punto non c'entra niente sicuramente un altro e no perché questa è la cosa veramente divertente cioè il fatto che voi fino alla fine non sapete se effettivamente hanno ragione Libby o se hanno ragione gli altri dicendo guarda non è stato il fratello perché l'autrice è abile a disseminare degli indizi poi a toglierveli poi a dirvi no però forse è molto bella com'è che ve la costruite anche perché vi racconta alcuni punti di vista diversi per cui voi capite perché magari il fratello è stato accusato di aver fatto una determinata cosa però poi dite ah però non è stato lui aver fatto quest'altra non sto parlando dell'omicidio insomma sto cercando di dirvelo senza dirvelo però vi assicuro che è un romanzo di quelli che proprio vi prendono proprio perché fino alla fine voi non capite qual è il mistero che c'è sotto cosa è successo veramente quella notte degli omicidi ed è più complicato del previsto e ho trovato la svolta finale quando veramente vi fanno capire che cosa è successo è tragica e bella non me l'aspettavo una cosa del genere è stato un colpo non vi dico geniale perché io non sono così esperta di heavy caspita è stato proprio un colpo di genio però sicuramente è stata una svolta dal mio punto di vista originale perché è difficile che insomma si trovi una risoluzione del genere nei gialli cioè negli ultimi gialli perlomeno che ho letto in cui alla fine si voi scoprivate l'assassino se non ci eravate arrivati prima cosa che ormai mi capita sempre perché purtroppo tra telefilm e libri gialli ormai sono proprio entrata nel loop del giallo per cui è abbastanza lampante per me ad un certo punto del romanzo chi effettivamente sia stato qui invece ho fatto un pochino più fatica per quanto ci sono andata vagamente vicina è stata proprio invece la svolta che invece mi ha lasciata proprio così ho detto ah ma allora che per cui sì se siete appassionati per me di thriller se vi è piaciuto l'amore bugiardo e se vi piacciono i romanzi un pochino più cattivi tra virgolette io ve lo consiglio ve lo consiglio anche mamma che voi sapete mia mamma è un'appassionata polle di romanzi thriller gialli non legge un triliardo più di me e anche lei ha fatto fatica a capire come era la svolta finale perché anche lei insomma c'è rimasta lì un po' così e infatti quando me l'ha dato indietro mi fa guarda bello bello leggilo lei si è appena comprata sulla pelle che l'abbiamo trovata in libreria l'altro giorno e io l'avevo letta in ebook adesso se lo sto leggendo poi vi faccio sapere eventualmente cosa ne pensa passiamo a tutt'altro tipo di romanzo che questo mi viene un po' male doverne parlare così così perché io non mi è piaciuto molto e non mi ha convinta particolarmente è uno di quei romanzi che ho letto e ho fatto anche abbastanza presto a dimenticare perché mi viene male a dirvelo perché è un grande classico io lo so cosa succede quando si parla male dei classici è sempre un momento in cui si dice ah vabbè però non capisci in tubo e ahimè io questo romanzo avevo riposto delle alte aspettative perché l'aveva letto la viperina e me ne aveva parlato molto bene e aveva detto che le era piaciuto molto ma poi in generale avevo sempre sentito parlare benissimo di questo libro anche l'Ale l'aveva letto e mi ricordo che mi ha fatto un commento del tipo mi sarebbe sempre piaciuto vedere un film tratto appunto da questo libro per cui alla fine io ho detto ce l'ho lo leggo il libro in questione è questo il maestro Margherita di Mikhail Bulgakov io non sapevo bene cosa aspettarmi dalla trama perché non neanche dietro non ce l'ho scritta non sono andata a cercarla e mi ricordo soltanto la viperina ha detto io mi aspettavo tutt'altro per cui non cioè leggendo il titolo mi aspettavo una cosa in realtà è proprio una cosa completamente diversa dunque non saprei neanche da cosa iniziare è un romanzo che mi ha lasciata sì un po' sorpresa proprio perché ha una trama completamente diversa da come eventualmente potevo aspettarmela perché ogni tanto vira anche su Tony un po' del fantasioso fantasy ma soprattutto prima di raccontarvi proprio la vera e propria vicenda legata al titolo cioè dei personaggi del maestro e di Margherita ci mette più o meno mezzo romanzo per cui voi fate mezzo romanzo a dire ma questi due ma quando saltano fuori o forse il titolo è una cosa metaforica forse alluda a qualcos'altro io ancora non ci sono arrivata perché sono ignorante ancora non ho capito che cosa sta alludendo tra l'altro la viperina mi ha appena mandato un messaggio ciao beperina sono fatta un sacco di domande cercavo di capire dovevo volessi andare a parlare questo romanzo perché all'inizio vi racconta delle vicende con dei personaggi così assurdi che sembrano usciti effettivamente da un romanzo simile fantasy tipo che ne so a me è venuto a prima botta in mente Jonathan Steniger e il signor Norel che tra l'altro ve l'ho appena parlato in un altro video però vi giuro a prima botta mi è venuto in mente quello non so perché mentre lo leggevo dicevo mamma non so mi era in mente quel romanzo e leggendolo io andavo avanti e proseguivo non lo so ma che vorrà dire questo ma alla fine dopo varie perpezie sono riuscita a raccapezzarmi nel romanzo però una cosa che mi ha un po' lasciata così è che non mi ha mai preso talmente tanto da dire ho voglia di leggerlo ho voglia di proseguire la lettura ho voglia di scoprire che cosa succede ai personaggi non proprio non ci siamo trovati io e Bulgakov non mi ha mai incuriosito non è riuscito a prendermi a dirmi vai avanti a leggermi e scopri come andrà avanti questa vicenda scopri i vari problemi di questi vari personaggi andranno a risolversi mano a mano che prosegui la lettura e invece no tant'è che io adesso a un mese e mezzo due mesi che l'ho finito è brutto da dire però non ho un grandissimo ricordo di questo romanzo a grandi linee io mi ricordo la trama e quello che succedeva però se mi dovete chiedere il particolare i nomi dei personaggi li ho abbastanza dimenticati o non era un gran periodo c'è da dire che quando io ho letto il maestro Margherita ho appena finito un libro che ho trovato straordinario e di cui dopo vi parlerò e che ho amato visceralmente ed è troppo uno dei romanzi più belli che siano mai stati scritti che io abbia mai letto perlomeno per cui ero talmente presa bene da quello che forse è stata anche una delusione appunto in virtù del fatto che ho letto quel romanzo prima che ok non c'entrava niente perché racconta tutta altra storia però sapete quando voi leggete un bellissimo romanzo e poi magari quello dopo anche se è bello vi sembra meno bello perché dite però quell'altro che ho letto prima ragazzi era proprio bello ecco questo è un successo con il maestro Margherita ne hanno parlato così tanto se è un romanzo che è diventato un classico così importante così famoso ci deve essere qualcosa sotto no? per cui sono tipo andata a cercare cioè le varie critiche letterarie nei confronti il maestro Margherita cosa che io non faccio mai dei classici proprio perché ho sempre il terrore che mi rovinino nella lettura perché dopo io vado a cercare quelle cose che ho letto nella critica tipo che ne so se nella critica letteraria mi dicono ah sai in questo passaggio ha voluto denotare qual era la condizione dei ricchi rispetto ai poveri ha voluto far notare come era la russa dell'epoca ha fatto dei della satira del giornalismo dei giornalismi dell'altra borghesia che è vero e dei nobili ci sono tutte queste cose in questo romanzo però purtroppo se voi le leggete prima per me dopo ve le andate a cercare e allora diventa più uno studio del romanzo non è più apprezzare il romanzo come storia cosa che io comunque non sono riuscita a fare però almeno se non altro ci ho provato storia in sé i personaggi in sé non lo so non mi hanno presa e anche qui io aspetto un vostro commento che mi dica ma come non è possibile non hai colto questa cosa perché non ti è piaciuto quest'altra è stato proprio un problema con la trama in sé con i personaggi è quello che proprio non mi hanno presa non sono riuscita a entrare nel romanzo tanto da estraniarmi cioè da sentirmi parte del quadro dei personaggi e ogni tanto mi capita con alcuni romanzi per cui tu li leggi e dici ah ok bello però non fai parte della loro storia e invece quando fai veramente parte della loro storia per quanto magari sia un romanzo piccolo e magari un romanzetto e comunque vince perché dici ok nonostante sia un romanzetto comunque io sono riuscita a entrare completamente no a divertirmi a ridere a essere quasi di fianco al protagonista e ai protagonisti mentre loro affrontavano determinati problemi e io ero lì con loro e Bulgakov non ce l'ha fatta scusami scusami io proverò a leggere qualcos'altro il tuo lo prometto perché ci provo però mi spiace è un mattonazzo che ho preso quando c'era stata la giornata internazionale la giornata mondiale del libro ed è questo per fila di James and Roy ora voi dovete capire che io sono andata alla cassa convinta di riuscire a farmi fare lo sconto di 13 euro che avevo sulla tessera cosa che non mi hanno fatto perché mi hanno aumentato i punti perché beccavo i punti doppi per cui alla fine non me l'hanno fatta e io l'ho capito ho detto va bene costa tanto ma chi se ne frega tanto c'è lo sconto no l'ho pagato a prezzo pieno alla fine perché questo mattone costa 22 euro e che infatti mi ci sono avvicinata con una certa ansia dicendo se non mi piace io giuro glielo porto indietro e mi incavolo perché l'ultimo libro che ho comprato che costava veramente tanto era stato Wolf Hall e voi sapete che Wolf Hall non mi era piaciuto tantissimo ora Perfidia quel geniaccio di Roy ha deciso di ambientarmelo durante la seconda guerra mondiale quando c'è stato l'attacco per l'albor ma più che questo è stato il fatto che i protagonisti di Perfidia sono persone che io già conoscevo perché sono Dudley Smith più tutta un'altra serie di personaggi tipo Buzz Mix e via dicendo perché poi ce ne sono tanti altri infatti io mentre leggevo i nomi dicevo ma anche tu per me io ti conosco a te io a te ti conosco ed effettivamente erano protagonisti di romanzi successivi ambientati a LA di James and Roy per cui i vari di grande nulla le Confidential la taglia nera e via dicendo soprattutto la taglia nera per cui se vi è piaciuta la taglia nera questo non potete non prenderlo perché qua ci sono proprio i protagonisti della taglia nera per cui Blanchard Bucky Blanchard se non mi ricordo male Kay Lake mi ha detto che se Perfidia avesse avuto 200 pagine in meno sarebbe stato più scorrevole più interessante io me lo sono bevuta io ho amato follemente questo romanzo l'ho trovato bellissimo intenso lungo profondo è stato proprio uno di quei romanzi alla James and Roy che mi mancava da tanto tempo io quando mi manca James and Roy voglio sapere che vado a rileggere Le Confidential romanzo che potrei citarvi praticamente a memoria talmente tante volte l'ho letto ormai sono una fissata di quel romanzo penso di avervelo venduto infinite volte quasi al pari di Poldark però forse vi ho venduto di più Le Confidential perché ve lo nomino da più tempo e so che un sacco di gente poi io sono contentissima quando succede questa cosa la poi letto e gli è piaciuto e questa cosa mi rende immensamente contenta perché è proprio un romanzo bellissimo Le Confidential non voglio dire leggere Le Confidential per l'esima volta però niente no scherzi a parte Perfidia mi ha ricordato tanto Le Confidential è vero manca un po' il mordente di Le Confidential quello era molto più noir nei toni e non lo so proprio mi faceva il fatto che ci fossero questi tre protagonisti che voi amavate inconsapevolmente tutti e tre anche se magari inizio uno lo odiavate l'altro mi stava un po' sulle scatole però alla fine arrivavate che boh li volete bene a tutti sì anche a Axley purtroppo anche a Axley e la trama vi ricordava appunto uno magari di quei romanzetti noir un po' da anni 40 no quelli che magari venivano pubblicati nei gialli mondadori cioè vi faceva un po' giallo dell'epoca no un po' film Alan Free Bogard questo sicuramente meno perché ha un pochino più i toni del thriller del giallo e soprattutto anche più i toni politici sono tantissimi personaggi anche se poi chiaramente la storia si focalizza sempre su quelli per cui non vi aspettate che vi racconti 30 personaggi diversi e vi approfondisca tutti e 30 personaggi no? pensate sia un romanzo molto corale e Roy riesce a raccontarveli bene tutti quanti riprende il suo stile cioè periodi brevi frasi molto incisive taglienti che so che non a tutti piace però io se lui lo sa fare bene perché attenzione in White Jazz non lo faceva tanto bene ma è lei Confidential American Tabloid e in questo lo fa veramente tanto bene per me prende proprio perché vi dà l'idea le azioni un po' a scatti no? vi dà mordente poi mi piace perché questo è anche un romanzo sporco ci sono questi personaggi che vengono dipinti molto attraverso le loro debolezze più che attraverso i loro pregi anche quelli che in teoria sono i buoni perché comunque ci sono i buoni vi racconta soprattutto qual è il loro lato debole e vi racconta dei lati un po' inediti di alcuni personaggi che voi probabilmente odiavate negli altri romanzi però non vi posso dire chi sono chiaramente perché purtroppo se ve lo svelo vi svelo dei cattivi e vi faccio degli spoiler dei romanzi successivi però è bello poi mi è piaciuto molto il fatto che uno dei grandi protagonisti di questo romanzo fosse finalmente Dudley Smith che era un po' l'ombra degli altri romanzi cioè c'era ma non c'era invece qui è molto protagonista c'è anche molto che lei che io adoro le donne di James and Roy perché sono sempre delle donne controcoglioni e la trama sì è bello anche il giallo che ha tutto uno sfondo sulla questione cino-giapponese e c'è appunto questo confronto tra il fatto che i cinesi sono i cinesi giapponesi sono i giapponesi perché uno dei protagonisti è cinese però chiaramente voi capite bene che questi se li confondono alla grande per cui c'è anche tutto questo discorso tra virgolette politico tra cinesi giapponesi e il loro rapporto con gli americani poi ovviamente in virtù del fatto che è ambientato nel post per l'arbor anzi poco prima durante e poco dopo per l'arbor perché comunque è una vicenda che si svolge in pochi giorni più triste forse di L.E. Confidential perché L.E. Confidential comunque in qualche maniera Roy cercava di mostrarci sia ok il lato del come vi dicevo debole dei personaggi ma anche la loro forza per cui vi diceva ok sono umani per cui ogni tanto cedono però mi dava l'idea che partisse di più dai loro lati di forza e poi mano a mano vi svelava quali fossero le loro debolezze anche perché voi pensate ad un Exley che cercava di far di tutto per farsi mostrare per far vedere che era uno bravo o di un Bud White che partiva comunque come personaggio positivo perché era uno che menava gli uomini che picchiavano le donne ecco quello che non succede è in questo per me ve li mostrano quasi subito con la loro strafottenza il fatto che tanti di loro sono degli ignoranti pazzeschi insicuri innamorati però convinti che però questo amore gli sarà negato o comunque che verrà respinto rendimenti che erano attaccati alla bottiglia al fumo all'oppio che si si fanno vedere però in realtà percepisci subito che è soltanto una facciata che in realtà sotto sotto sono i poveracci e mi è piaciuto un po' questo cambio di stile in Roy oltretutto questo qui sarà il primo della nuova serie per cui sto tendendo con ansia il secondo il terzo il quarto il quinto non lo so quanti ne vuole scrivere Roy ma più ne scrive meglio è perché se continua così io me li compro tutti appena escono e chi se ne frega se costano 22 euro come costava questo qui si oddio se non siete fan di James and Roy io vi consiglierei quasi quasi di aspettare un attimino magari a comprarlo e di provare a leggere le confidenze se invece siete fan di James and Roy e vi sono piaciuti i romanzi appunto a metà di lei se lo dovete comprare subito correte subito in libreria perché per me quest'estate è meraviglioso mamma quanto mi è piaciuto questo romanzo ma più tanto continuo a ripetermelo è proprio bello il penultimo libro anche questo l'ho avuto in omaggio quando ho preso le confidenze perché regalavano un libro è questo che è Wonder di R.J. Palazio che non mi ricordo per cosa sta è un romanzo piccolino ma molto incisivo ed è uno di quei romanzi che io vi consiglierei se magari avete che ne so dei fratellini o dei figli in età tipo non so 12-13 anni anche 10 facciamo dai 10-14 anni perché per me è un romanzo scritto anche per loro io ultimamente ho notato che c'è una una fiorente letteratura infantile o comunque per ragazzi e io vado spesso a sbirciare nel reparto ragazzi e sono stata tentata un sacco di volte perché mi incuriosirebbe leggere alcuni romanzi proprio per ragazzi proprio per vedere un po' come lo stile di questi libri parte da una trama che apparentemente è banale se volete è perché c'è questo ragazzino protagonista che ha una grave malformazione fisica è intelligente ha la stessa maturità dei ragazzi della sua età però purtroppo questa malformazione fisica che poi vi viene spiegata comunque nel romanzo non troppo nei dettagli però vi fa capire abbastanza bene qual è il problema c'è il fatto il motivo per cui lo guardano male i suoi compagnetti che va bene perché chiaramente a 12-13 anni purtroppo si tende comunque a guardare il diverso un po' così è bello perché comunque vi racconta la storia non attraverso soltanto le pagine del diario di August che è il protagonista ma anche attraverso le pagine di un diario di tutti gli altri ragazzi per cui di suoi amichetti di sua sorella maggiore vi fa vedere come una cosa la percepisce August come la percepiscono i suoi compagni come la percepisce la sua famiglia per cui vi vedo tutti questi diversi punti di vista fino a che voi non completate appunto il quadro finale non è uno di quei romanzi che vi vuole insegnare ad accettare il diverso cioè non va aspettato una morale del genere del tipo guarda è diverso per cui anche se è diverso è comunque un bambino come te devi cercare di stargli vicino di volergli bene anche se è un bambino fisicamente basta diverso è logico giustamente che quando voi leggete che uno di questi bambini lo tratta male lo prende in giro e dite guarda questi stronzi cioè alla fine ok è un bambino è fatto diverso però è comunque un bambino come tutti gli altri certo ovviamente però vi dà l'idea che l'autrice non lo faccia per commuovervi o per provare pietà per il personaggio perché comunque ho questo bambino come gli altri per cui è un bambino rompicoglioni di 12-13 anni adesso non mi ricordo come tutti gli altri bambini 11 anni forse perché andava in prima media se non mi ricordo male comunque sì cioè lui non è che è più bello più simpatico più carino è più dolce rispetto agli altri ragazzini no 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 è proprio come tutti gli altri ragazzini per cui ci sono i momenti di cambiamenti di umore assurdi come ci hanno i ragazzini di 11 anni c'ha i momenti in cui perché l'età è buono carino e simpatico c'ha i momenti in cui dici basta eh c'è lo che fare con i ragazzini tutto il giorno non ce la posso fare anche quando leggo il libro aveva iniziato a leggerla Chiari e mi aveva detto leggilo perché è veramente molto carino ed effettivamente sì io ho uno di quei romanzi che tipo sembra stupido però io lo consiglierei da leggere anche nelle scuole cioè al posto di far leggere quei romanzetti che i ragazzini magari si rompono le palle no questo per me è anche scritto molto bene in maniera scorrevole con tanti dialoghi con delle lettere con delle mail all'interno però nonostante sia scritto così non ha quella scrittura che voi dite sembra scritto da un ragazzino di 15 anni no però è fatto per me ad uso e consumo sia di un adulto che lo legge volentieri sia appunto di un ragazzino è uscito anche il romanzo credo si chiami di Julian che è uno dei personaggi di Wonder che è forse l'unico che non ha una sua voce all'interno di questo e infatti volevo andarlo a recuperare perché Julian è un personaggio un po' enigmatico che è appunto questo ragazzino compagno di classe di August e mi curiosirebbe sapere la sua storia proprio perché qua non ci viene narrata e noi tendiamo un pochino a dire che stronzetto questo Julian invece magari leggendo la sua storia scopriamo un lato di lui che ahimè non conoscevamo l'ultimo libro di cui vi parlo io questo questo vi romperò le scatole finché non lo leggerete ed è La valle dell'Eden di John Steinbeck io questo libro mio dio l'ho adorato in una maniera incredibile cioè non so neanche come riuscire a parlarvene per farvi capire quanto mi è piaciuto perché è uno di quei romanzi che mi sono piaciute talmente tanto che a parte dire bello e bello e bello in modo assurdo non so come cercare di appunto descrivervelo allora io della valle dell'Eden conoscevo il film quello con James Dean che però non ho ancora rivisto per cui non vi so dire in che misura il film vada a riprendere il libro da quello che mi ricordo io il film si basa soprattutto sulla seconda metà del romanzo più che sulla prima perché comunque il personaggio interpretato da James Dean che era Cal pare molto più avanti nella valle dell'Eden John Steinbeck ci racconta la realtà diciamo dell'America rurale queste grandi famiglie che abitavano appunto queste fattorie che lavoravano la terra di queste non so vi da l'idea quasi di un romanzo color seppia per dire voi vi immaginate questi personaggi capito sotto il sole cocente in questi territori sì desertici con qualche ruscelletto d'acqua ogni tanto questi personaggi che vivono quasi sempre con la zappa in mano col cappello in testa che appunto lavorano la terra queste ragazze non so con le trecce lunghe mi da tutte queste immagini questo libro ed è bellissimo proprio perché non vi racconta soltanto la storia di una famiglia ma la storia di tante famiglie e voi chiaramente intuite che prima o poi tutte queste famiglie si incontreranno o si scontreranno cosa che effettivamente poi ad un certo punto del romanzo succede perché un personaggio entra in collisione con quell'altro quell'altro con quell'altro ancora poi tramite vari trasferimenti succede che questo si innamora di quell'altro vi dicendo il fatto è che io ero partita un po' un po' così con John Steinbeck perché avevo cercato di legger furore anni fa e forse non era periodo per cui avevo detto non lo so la valle dell'Eden si inizia come furore che era così lento che ti faceva tutte queste discrezioni dell'America della depressione appunto nell'era della depressione insomma non lo so cosa facciamo io ho iniziato a leggerlo così per caso mi sono messa lì e sono stata immediatamente catturata cioè voi non potete crederci ma vi giuro io non riuscivo a smettere cioè non riuscivo a smettere di leggerlo questo libro cioè tutte le volte che lo prendevo in mano mi dicevo beh leggo due pagine e poi tipo vado perché magari avevo da fare o non riuscivo a smettere perché mi prendeva talmente tanto nonostante ci fossero tutte queste lunghissime descrizioni del paesaggio dei vari personaggi del loro carattere cioè io lo leggevo e soprattutto per quanto riguarda le descrizioni dei personaggi del loro carattere e vi giuro che ci sono stati alcuni momenti che ho pensato dio mio vorrei che qualcuno scrivesse una descrizione così di me perché è bellissima perché non era il classico non era la classica descrizione del fisico o la classica descrizione del carattere non lo so se si scotterò un pezzo di un personaggio che era Tom che era uno dei figli questo del mio personaggio preferito che era Samuel Hamilton che cioè io vorrei conoscere uno come Samuel Hamilton perché sono quelle fonti di saggezza è il personaggio praticamente che fa sì il contadino che ha comprato questa tenuta che praticamente non gli dà niente perché ha il terreno molto secco e nonostante lui tra l'altro viva abbastanza in povertà perché comunque dal terreno non ci stia era su niente lui costruisce un sacco di aggeggi e tipo dopo li presta agli altri ma non si fa mai pagare per cui questa persona generosissima è buona con tutti con una parola per tutti ma non soltanto parole buone di conforto ma anche uno che quando c'era bisogno ti diceva in faccia la realtà e ti diceva tipo sei un pirla perché continua a far così però quando c'era bisogno c'era e ti aiutava e ti dava una mano uno che per i suoi figli cioè li lasciava andare quando aveva bisogno di lasciarne andare che però li supportava e c'era sempre cioè non so sarà perché un po' mi ha ricordato mio nonno e allora subito mentre lo leggevo ho detto io adoro questo personaggio perché un po' era anche così mio nonno che appena gli chiedevano aiuto lui c'era sempre se c'era da fare qualcosa manualmente lui te lo faceva se c'era da inventarsi qualcosa di ingegneria strana in casa lui veniva e creava delle cose assurde con quello che aveva ecco me l'ha ricordato talmente tanto che io mentre leggevo il romanzo mi aveva in mente lui per cui cioè non potevo fare a meno di andare avanti a leggere per scoprire cos'altro si sarebbe inventato tipo questa qua è la descrizione appunto di Tom che vi dicevo prima che vi dice Tom il terzo figlio assomigliava tutto al padre era nato tra la furia e viveva tra i fulmini Tom era entrato nella vita a capofitto era un gigante nell'allegria e negli entusiasmi non scopriva il mondo e la gente li aveva creati quando lessi i libri del padre arrivò per primo viveva in un mondo fulgido e fresco e vergine di sguardi come l'Eden il sesto giorno il suo spirito si lanciava come un puledro in un ricco pascolo e quando più tardi il mondo eresse i recinti si lanciò contro il filo spinato e quando si trovò di fronte all'ultima barriera vi si lanciò attraverso sfondandola e come era capace di una gioia gigantesca così era suscettibile di immenso dolore e quando gli morì il cane diparve la fine del mondo io quando ho letto questa descrizione ho detto oh mio dio sono rimasta incantata e l'ho tipo riletta non so quante volte e l'ho dovuta sottolineare ho detto io dovrei stamparmela questa e mettermela da qualche parte perché è meravigliosa e il fatto che ce ne sono tantissime di parti così proprio che voi le leggete e le sottolineate le rileggete pensate io voglio essere descritta così io voglio che si dicano queste cose io vorrei leggerne non so altri mille miliardi di romanzi così e poi tutto quello che dice Sam Hamilton io non lo so fare un libro soltanto con Sam Hamilton un protagonista non lo so è meraviglioso poi vabbè non soltanto Sam Hamilton ma anche tutto il resto tutta questa storia appunto di padri e di figli di madri un romanzo soprattutto fatto di persone e di grandissimi personaggi e sono tutti quanti talmente belli e talmente meravigliosamente descritti che cioè voi leggete le descrizioni dei luoghi e non vi annoiano perché gli date uno sfondo e perché vi sembra proprio di essere lì vi sembra essere nell'America dell'epoca no? su quei campi in quelle fattorie gigantesche dentro quelle case in quelle città polverose e poi leggete dei personaggi e percepite come si muovono in quei luoghi e gli siete proprio a fianco è quello che vi dicevo prima che non mi è successo col maestro Margherita qua invece mi sembrava di essere proprio con loro mi sembrava di prendere parte della loro storia ed è per questo che l'ho trovato veramente meraviglioso questo libro perché poi ci sono stati tutti i personaggi nonostante cambiassero nel corso del romanzo perché appunto essendo un romanzo corale essendo una saga familiare chiaramente a un certo punto certi personaggi non ci sono più e poi ne arrivano degli altri no? non vi cioè vi dispiace aver mollato quegli altri però trovate talmente belli anche quelli che arrivano che cioè voi andate avanti a leggere ed è bellissimo e nonostante anche c'è un personaggio che voi odiate con tutto il cuore vi piace leggere anche la sua di storia ha fatto il miracolo per me con questo romanzo John Steinbeck perché ok è vero vi racconta un'epoca vi racconta anche di di tutti di tutta una serie di problemi sociali dell'epoca però quello che io ho percepito di più e quello che sicuramente mi rimarrà più impresso sono appunto tutte queste persone questo romanzo di persone del loro debolezza del loro gioia i loro amori il fatto che alcuni di loro si facciano distruggere alcuni di loro che partono negativi che odiano la vita alcuni che hanno dei punti di vista completamente diversi dei miei ma nonostante questo io cioè riuscivo a capirli non lo so mi è rimasto talmente impresso perché sono veramente una forza questi personaggi del romanzo cioè proprio sono dei giganti appunto come vi diceva di Tom che appunto si lanciano contro la vita e spesso e volentieri ricevono comunque degli schiaffi e si schiantano contro questo muro ma nonostante questo continuano a buttarci si contro per cercare di sfondarlo e alla fine cercano di ottenere della felicità o cercano di accontentarsi di quello che hanno perché è bello uguale no tipo Sam Hamilton scusate che è quello che legge tantissimo che racconta tutte queste storie assurde vabbè mi sono innamorata di quel personaggio anche se ho amato tantissimo i personaggi anche di Cal di Adam Trask di Aaron e anche i personaggi femminili poi c'è Lin che è questo servo cinese che sta appunto in casa di Adam Trask che anche lui è un personaggio meraviglioso che è un po' il tuttofare ma che ha cresciuto questi due ragazzi come se fossero quasi figli suoi vabbè non vi sto a dire nient'altro voi dovete leggerlo questo libro perché è serbitoso non lo so è meraviglioso se avete letto qualcos'altro di John Steinbeck ditemelo perché io voglio leggere tutto quello che ha scritto devo andare a recuperare furore questo sicuramente perché non posso far meno di rileggerlo e devo recuperare quello più tanti altri voi fatemi sapere quale avete letto così io poi baglio le varie possibilità e me li vado a cercare io vi saluto spero di avervi convinta non recuperare alcuni di questi libri fatemi sapere se c'è qualche libro che avete letto che a voi è piaciuto o che a voi non è piaciuto tra questi vi auguro buona lettura noi ci vediamo prestissimo le vacanze se alcuni di voi sono già in vacanza vi invidio tantissimo e ci vediamo prestissimo ciao ciao